e io ve l'avevo detto che non sarebbe stato un mercoledì qualsiasi ma un mercoledì diciannove ottobre veramente speciale perché qui con noi Anna Lisa eccomi ciao ciao a tutti bellissima anche di fatto non solamente con la canzone insomma che stiamo ascoltando e cantando da un po' di tempo ed è bellissima tu bellissimo averti qui anche per me tutta la vita grazie sei prontissima perché questo mese di ottobre ne stavamo prima parlando a microfoni spenti un mese allucinante per te in senso bello costruttivo pieno di energia ma perché c'è c'è il tuo tour sì sì esatto quindi diciamo che ma è già da un po' di tempo è che non tocco terra quindi però non mi lamento perché ovviamente questo significa che è un periodo positivo infatti sono molto contenta di come sta andando la mia canzone mi sembra tutto devo dire giusto no sai quando ti senti che stai facendo le cose bene le cose giuste questo per me è un periodo così quindi sono contenta di avere tante cose da fare e soprattutto di essere in tour chiaramente a portare in giro finalmente la mia musica live e anche questa nuova canzone diciamo aspettavamo da tanto allora canzone molto bella che noi stiamo ascoltando già da diverse settimane e riascolteremo insieme a te anche quest'oggi canzone che però tu avevi già scritto quindi era lì che aspettava il momento giusto per farsi conoscere amare esatto sì perché io questa canzone l'ho scritta diciamo mi sembra fosse tra fine agosto inizio settembre 2021 ecco e chiaramente avevo fuori il progetto dello scorso disco e ero diciamo in conclusione di quel viaggio e quindi ho dovuto aspettare il tempo debito per ripartire poi c'è stato il successo clamoroso di quest'estate con tropicana e anche quello ha avuto il suo tempo certo a me è capitato anche quello a fagiolo perché comunque è stato il modo per ritornare pian piano diciamo pian piano perché comunque diciamo io ero ospite del progetto bunda bash poi chiaramente abbiamo interagito e è venuta fuori una roba che secondo me era veramente il giusto incontro tra i nostri mondi no e quindi è stato per me un ritorno diciamo graduale poi fortunatamente un bel ritorno importante che mi ha consentito adesso poi di finalmente partire con il mio pezzo come detto tu quando tutte le cose si combinano nel modo giusto il tempo giusto per fare esplodere poi la bellezza di una canzone come quella che ascolteremo tra poco è fantastico tu sei in tour bellissima è una canzone anche molto molto intensa molto forte perché racconta una situazione tua in cui credo tutte noi ci siamo trovate almeno una volta nella vita magari con delle sfumature leggermente diverse no quindi quella delle grandi aspettative poi di qualcosa che va storto in amore esatto cioè praticamente io su questo pezzo diciamo chiaramente ho cercato di essere sincera come sempre no io comunque scrivo le mie storie e cerco sì 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 cerco di fare in modo che appunto sia evidente che quello che sto raccontando è qualcosa di vissuto qualcosa che sento in prima persona no perché comunque non ce la faccio a fare diversamente no ma sai ne va anche della credibilità io credo che poi essendo che comunque io scrivo c'è proprio una cosa che ho questa esigenza poi chiaramente collaborano con i miei fidati coautori no e infatti comunque loro lo sanno io sono molto diciamo esigente da questo punto di vista se una cosa è onesta ed è completamente mia andiamo dritti se no si cambia no non è questa la strada quindi ho cercato di raccontare la mia storia onestamente e ti dirò di più secondo me nella scrittura di tante canzoni ogni tanto manca l'idea del vedere la storia no cioè tu hai raccontato così bene una storia delle immagini che tu la vedi cioè percepisci la storia le sensazioni ma è come se anche per chi magari non vede il video ma ti ascolta e basta tutto questo è proprio davanti agli occhi di chi si gode tutto questo ed è bellissimo ed è una cosa che il potere straordinario delle canzoni ma non sempre si riesce a rendere la storia che c'è dietro e tu ci sei riuscita per cui tutte ci sentiamo un po' te bellissima in qualche modo il senso è quello credo il senso assolutamente quello lì tutte tutti aggiungo perché comunque è vero che chiaramente io parlo di me e quindi la racconto in prima persona però vale per tutti no quindi il riporre tante aspettative in qualcosa e mettersi nella migliore condizione tale per accoglierle poi oddio rimani a bocca asciutta no perché lui non è arrivato chi lo sa chi lo sa però alla fine tu bellissima a volta con quest'abito è lui ma perché poi dice ma come fanno a perdersi dei momenti così belli no le persone che poi magari non sono lì quando dovrebbero essere ma cosa si perdono ma poi si pentono appunto però dai poi diciamo che abbiamo recuperato dai sì meno male meno male senti quanto quanto è importante poi il tuo rapporto con la moda perché insomma tu parli citi no quindi casa francese pazzesca con la quale insomma collabori anche ma il tuo rapporto con la moda allora il mio rapporto con la moda anche qui siamo come sempre molto onesti cioè nel senso che è vero io sono mi piace moltissimo la moda amo il mondo della moda sia nell'interpretarlo ok ovviamente a mio modo sempre con con onestà cioè voglio riuscire no a manipolare per quanto posso anche diciamo l'immagine per dire ancora di più ancora più forte una frase trasmettere ancora più forte un messaggio una storia ecco certo è come un evidenziatore potente no esatto ti da un potere incredibile no la moda in questo senso se riesci non è semplice no devi anche farti consigliare non è una cosa che si insomma nasci imparato no anche qui bisogna imparare però però ti diverte secondo me mi diverte moltissimo poi mi piace anche essere spettatrice devo dire no mi diverte molto il mondo anche eccessivo della moda no mi piace ammirarlo come se fosse uno spettacolo quale è ecco quindi trovo che sia molto bello in realtà poi riuscire a mescolare i vari mondi artistici no quindi riuscire a mescolare parliamo di un videoclip no quindi il mondo visivo quindi l'arte della regia l'arte scenica con l'arte della moda no è lo spettacolo della moda e la canzone no la scrittura la poetica mescola meravigliosi quando riesce a far incastrare tutto bello giusto ti accorgi che hai fatto qualcosa di importante come avete fatto anche non so con la canzone con tropicana quest'estate in cui immagino quanti in barca l'avranno ballata esattamente come avete fatto voi infatti arrivavano i video di gente che ricreava il video di tropicana in barca io che guidavo il motoscafo che brava quanto ti sei divertita con i bundabash mi sono molto divertita loro sono veramente fantastici proprio che ti coccolano cioè sono ragazzoni molto buoni simpatici accoglienti sì c'è proprio quella quella parte bellissima del del salento che ti fa sentire accolto a casa ecco loro mi hanno trasmesso proprio questa cosa qua ovviamente in primo luogo ma secondo me lo trasmettono un po' a tutti poi diciamo abbiamo fatto le nostre feste le robe ma lì bocca cucita quello che succede nel salento rimane nel salento basta va avanti così bellissimo senti a proposito invece di cose che si possono dire si possono raccontare questa sera dove sarai? Allora io stasera sono a Firenze sono in tour chiaramente ho iniziato ieri a Bologna e ho ancora un sacco di date perché siamo solo alla seconda quindi poi dopo andrò a fammi riflettere un secondo e dire cose sbagliate a Roma brava e poi abbiamo Modugno a Bari vedi che torni in Puglia la Puglia chiama e tu torni vedi 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 poi abbiamo Pozzuoli quasi Napoli Pozzuoli e poi saliamo di nuovo su e torniamo facciamo Torino, Milano e Padova in conclusione. Bello tutto questo fino al 30 ottobre quindi come dire non ci si ferma mai. No 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 non avrei tempo mi raccomando dormi perché tu mi hai detto insomma che il sonno è fondamentale per la voce bisogna dormire bisogna dormire bisogna fare esercizi sì gli esercizi servono ma se non dormi raga non ce la fai non ce n'è non ce n'è che cosa meravigliosa. Senti come sarai vestita in tour qualche approvviso che abbiamo parlato di moda giustamente. Allora qua lasciamo un po' di suspense però diamo un indizio diamo un indizio diciamo che quello che indosserò in tour è qualcosa che da qualche parte si è già visto ma in un colore diverso. Molto bene quindi seguiamo Annalisa con i solturi in giro per l'Italia soprattutto grazie per essere stata qui grazie per una canzone molto bella come bellissima che secondo me da oggi tutti ascolteranno un po' con gli occhi a cuoricino pensando davvero e vedendo questa sorta di fotografia che tu ci hai ricordato ma a proposito di atmosfere particolari che ci ricordano l'estate che hai messo ma facciamo tornare l'estate. Ecco ci ascoltiamo Tropicana. Un attimo. Un paio di minuti ascoltiamo Tropicana Annalisa con i Bundabash. Grazie di cuore per essere stata qui su R101. Grazie a te. Grazie a voi. Ciao. R101 Uno